Ogni Tanto Una Gioia, le notizie felici della settimana con Marina e Nicola Benvenuti su Ogni Tanto Una Gioia, io sono Marina Benvenuti, io sono Nicola E oggi veniamo da voi con moltissime notizie splendenti e serie No, non sono tutte così serie Sono sempre serie le nostre notizie, poi ci sono quelle un pochino più simpatiche Allora dipende cosa fanno gli animaletti carini quella settimana Si adoperano ad essere molto dolci, allora cosa si può fare? E vi do un piccolo spoiler, ci saranno animaletti carini anche oggi Lo sai invece cosa non sento? No La musichetta, è vero, regia Possiamo porre rimedio a questa mancanza Mi sento un po' nuda senza la mia musichetta di sottofondo Sì, è vero, una volta che ci siamo abituati Sulla coperta è lì Va bene, forse l'avremo, se no dovrete sentire le nostre voci E solo quelle, e ve le faremo bastare Esatto, quella è la nostra prima notizia Nicola La nostra prima notizia? Si va sul sole Sul sole, bellissimo Che già la scorsa puntata si è reso protagonista di una notizia Con queste aurore boreali che si erano viste alle nostre Eccola Oh, 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 eccola Che si erano viste alle nostre attitudini E quindi frutto di questa attività solare molto intensa Che si sta manifestando anche in questo modo E oggi vi parliamo di una macchia solare Che sulla scia di questa attività potrebbe causare delle tempeste geomagnetiche E questa è una buona notizia? È una buona notizia Nì, perché potrebbero esserci altre aurore boreali come quelle che si sono viste Diciamo che è per quello che è una buona notizia per noi Esatto E poi vabbè Ha un carattere scientifico spaziale che a noi piace sempre abbastanza Questa macchia è enorme Allora, vabbè, le macchie solari sono quelle chiazze nere Che si intravedono sulla superficie del sole Non guardatela ad occhi nudi però Non guardatela, no, assolutamente E sono fisiologiche, nel senso il sole ce le ha Perché sono un risultato della sua attività Di reazioni termonucleari della superficie Questa in particolare però ha attirato l'attenzione Perché è molto grande È 15 volte più ampia della Terra Quindi immaginati la grandezza di questa macchia solare Perché il sole è enorme Però, insomma, mi sembrano grandezze gigantesche E ha prodotto delle espulsioni luminose Nei giorni scorsi rilevanti Che hanno attirato l'attenzione degli scienziati E queste, diciamo, tempeste solari Vanno a creare un'instabilità a livello di campo magnetico E quindi potrebbero alterare l'attività dei satelliti Delle comunicazioni radio Gli scienziati sono un po' preoccupati di questa cosa E nella fattispecie questa macchia solare Che vi do il suo nome simpaticissimo scientifico AR3664 Potrebbe dare nei prossimi giorni, settimane Ancora non si sa esattamente perché deve essere un po' definita la sua attività Dei bellissimi spettacoli di aurore boreali Come quelle che abbiamo visto Forse anche più belle Ma noi non l'abbiamo vista Quindi non potremmo eventualmente paragonare Giudicare, sì Però potrebbe dare origine parallelamente a tempeste geomagnetiche E che potrebbero disturbare, come ho precedentemente detto Le trasmissioni radio E interferire con l'attività dei satelliti Se non riuscite a sentire il radio Sankara Non è colpa nostra È colpa della tempesta solare Non siamo in realtà in onde radio No, esatto È un problema Esatto Quindi non guardate il sole Ma aspettatevi alterazione sull'attività dei satelliti Ma in ogni caso noi ci saremo E anche questa è una notizia positiva Esatto Con la seconda notizia dove andiamo? Con la seconda notizia andiamo nel mondo della farmaceutica Andiamo in realtà a Venezia Dobbiamo andare da qualche parte Però diciamo che non è la parte clou di questa storia Ok Infatti è un farmaco che negli ultimi anni è diventato molto popolare Con il nome di Ozempic o Wegovi Ha dimostrato in un ultimo studio degli ottimi risultati Infatti riesce a diminuire le malattie cardiovascolari E a aiutare le persone che hanno perso peso A mantenere quella perdita di peso fino a 4 anni Ok E sfortunatamente appunto questo farmaco Che appunto è conosciuto come Ozempic A livello farmaceutico è semaglutide Ha avuto appunto una brutta anomia in realtà Perché quando è stato messo in commercio Si è sottovisto infatti che aveva questa ottima capacità Di far diminuire di peso le persone Proprio dando anche un senso di sazietà E quindi è stato un po' abusato Soprattutto lì in quegli ambienti Dove mantenere una certa linea È un po' una questione anche appunto di professione Certo Però appunto non è nato per questo È nato come farmaco per abbassare la glicemia Viene aiutato, utilizzato infatti per Nella sintomatologia delle persone diabetiche E però appunto anche nella perdita di peso Ora in realtà non in Europa In Europa non è ancora stato approvato Come farmaco per la perdita di peso Questo solo negli Stati Uniti Però negli studi che sono stati portati avanti Che sono stati presentati appunto nel congresso europeo Sull'obesità a Venezia Sì Hanno visto appunto risultati molto promettenti Oltretutto hanno visto appunto Dei risultati molto promettenti Per quanto riguarda la diminuzione appunto Di eventi cardiovascolari E in generale di un miglioramento Della salute cardiovascolare globale La pressione arteriosa La pressione arteriosa Diminuisce Sì E non solo nelle persone che avevano perso peso Quindi anche le persone che avevano perso Una quantità di peso minima Comunque hanno visto questo miglioramento Quindi appunto non solo legato A una perdita di peso E quindi è un ottimo risultato E comunque appunto io personalmente Sono a favore Dell'utilizzo di farmaci La perdita di peso Credo ci sia un grande stigma Contro il loro utilizzo Ma invece Credo che chi vuole Traprendere questo percorso Deve avere a disposizione Tutte le Sì bisogna dare la possibilità Di scegliere Tra tutti gli eventuali percorsi Poi può essere un percorso insieme Uno appunto fa un percorso sociale Psicologico Nutritivo Però può fare anche un percorso farmacologico Esatto Anche perché ognuno di noi è diverso Quindi magari quello che va bene a te Non va bene per me Ma proprio da un punto di vista terapeutico E quindi magari anche la risposta Terapeutica alla terapia Quindi può essere migliore per una persona Utilizzando il farmaco E quindi sì È un'ottima notizia Ci piace Ci piace Parliamo sempre di ricerca Ricerca di cuore Esatto Perché a Bologna Ci sono alcuni ricercatori Che hanno scoperto una proteina Che ripara il cuore Ottimo E lo hanno fatto con degli studi Sullo zebrafish Che è questo Tipico Organismo modello Su cui si fanno tutte le ricerche Perché come tutti gli organismi modello Sono degli organismi appunto degli esseri viventi Che hanno uno sviluppo molto rapido E quindi compatibile con l'attività di ricerca In un laboratorio Una volta si usavano le mosche della frutta Poverino Si usano un po' meno Drosofile Esatto E gli organismi modello sono La drosofila appunto C'è il lievito C'è questo pesce C'è la pianta La radiodopsis E sono appunto Un ventaglio di organismi Di tutti i tipi Quindi Piante e animali Lieviti E poi c'è anche la nostra amica drosofila Utili appunto A condurre ricerche A capire qual è la risposta All'interno dei vari ecosistemi organici E in questo caso A partire appunto da questo piccolo pesciolino Il pesce zebra Gli scienziati hanno scoperto Una molecola molto particolare Delle proteine morfogenetiche dell'osso Chiamata BMP7 Che ha Effetti Significativi Nella proliferazione delle cellule muscolari cardiache In fase neonatale E L'esperimento sul pesce zebra Ha confermato E successivamente Sono stati fatti anche Esperimenti su organismi Un pochino più evoluti Da un punto di vista biologico E fisiologico I topi E Si è dimostrato anche sul topo Che Il BMP7 È in grado di Stimolare la proliferazione Dei cardiomiocidi Che sono le cellule cardiache Anche in fase adulta Quindi non più solo In una fase di sviluppo embrionale Ma anche In un organismo Che è già formato E in seguito Addirittura Anche ad un Effetto patologico Quindi in seguito Anche a infarto del miocardio Quindi Lì dove appunto Le cellule cardiache Poi vanno A Necrotizzare Esatto L'infarto È possibile quindi andare A ripristinarle Diciamo ripristinarle Sì Cambiare E fare uno switch Di cellule morte Ormai inservibili Che avrebbero reso Anche l'organo Meno performante Con Un Fai sbattere con la macchina Per portarlo al meccanico E ti cambia la portiera Esatto Solo che in questo caso La portiera è un cuore Quindi insomma Non è un qualcosa Di molto Di molto semplice Su cui Su cui agire I ricercatori Sono molto ottimisti E Ovviamente La sperimentazione Va avanti Devono essere sviluppate Strategie terapeutiche Perché poi Quando si fa il passaggio Da animali Da esperimento Uomo Diciamo Il salto È abbastanza complesso Però ci sono Ottime prospettive E questo ci rende contenti Molto Complimenti E per la nostra ultima notizia La nostra promessa notizia Di animali Sì La Marina si sbizzarrisce Sì Ve le vado a cercare Di chi ci parli Vi parlo Della lince iberica Comunque le lontre inglesi Non ci sono aggiornamenti Per ora Non ci sono aggiornamenti È vero Devo tornare A farvi sapere Cosa mi raccontano le lontre Indagheremo Indagheremo Ma parlaci della lince Per ora vi parlo Della lince iberica E la lince iberica Che è un bellissimo felino Proprio un gattone Pelosissimo Vi consiglio Di andarla a cercare Ha duplicato La sua Triplicato Anzi No duplicato Scusate In tre anni La sua popolazione Tra il confine Tra il Portogallo E la Spagna E infatti All'inizio del 2020 Si contavano Solo Mille esemplari Di questa bellissima lince Però appunto Attraverso programmi Di recupero E di conservazione Quest'anno Si è visto appunto Che siamo arrivati A circa appunto Le duemila Quasi tremila esemplari Si E appunto Questo rende Tutti molto felici Anche perché appunto Si sta vedendo proprio Una grande nascita Di cuccioli E di appunto Diverse famiglie Sparse appunto Per il territorio Che È proprio bella Tra l'altro Lo svolgono delle immagini È veramente bello Sembra un gattone Sì Esatto La potete trovare Intorno alla regione appunto Della Mursia Albacete Badajos Toledo Ciudad Real E poi appunto Verso il Portogallo Quindi andando un pochettino Più a sud È sempre bello È sempre bello Quando diamo queste notizie Di animali Che rischiano L'estinzione Invece poi Diciamo Il circolo Si Si scaravolta Improvvisamente E prende tutta Un'altra direzione Eh sì 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 Molto bene Abbiamo già finito Abbiamo già finito No Queste erano le nostre notizie Che tristezza Ma Non dimenticate Che ci rivediamo E ci risentiamo La settimana prossima La settimana prossima Mandateci le vostre notizie felici Scriveteci Su Instagram Sì E i social Di Radio Sancara Noi siamo qui Ad ascoltarvi Esatto C'è anche una voce Un po' sexy Questo giorno Non so come mai Forse siamo un po' stanchi Esatto Siamo un po' più pimpanti Alla prossima Ciao 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 Il lavoro in Italia È troppo precario E i salari Sono troppo bassi Tre persone al giorno Muoiono lavorando Per realizzare il massimo profitto possibile Appalti Subappalti Finte cooperative Estrenalizzazioni di attività Sono diventati normali Modelli organizzativi Di ogni azienda Privata e pubblica Il frutto di vent'anni Di leggi sbagliate È un netto peggioramento Delle condizioni di vita E di lavoro Delle persone Che per vivere Devono lavorare Per questo CGL Vi invita a firmare Per il referendum abrogativo I quesiti Su cui siamo chiamati Ad esprimerci Sono Cancellare il Jobs Act Tornare all'articolo 18 per tutti Cancellare il tetto massimo All'indennizzo In caso di licenziamento illegittimo Nelle aziende piccole e medie Cancellare l'abuso Del contratto a termine Cancellare la Deresponsabilizzazione Delle aziende Committenti Nel ciclo degli appalti Potete firmare Potete firmare Su www.cgl.it Slash referendum Ai banchetti Che troverete Nelle piazze Oppure Alla sede CGL Più vicina a voi Nelle piazze Nelle piazze Nelle piazze Nelle piazze Nelle piazze